Siamo riusciti a fermare questa norma vergognosa che il governo in maggioranza voleva varare. È una norma fatta apposta contro le forze di polizia, contro i carabinieri, contro i poliziotti, contro coloro che stanno facendo un'attività per la difesa dei cittadini. Una norma che di fatto impediva a loro di poter eseguire anche le loro concrete attività. Noi siamo sempre stati dalla parte delle forze dell'ordine e continueremo sempre a esserci.